Affascinante la tua tecnica all'avanguardia Investigare i non morti è vecchio stile Cosa c'è? Spegni le luci Papà! Oh mio Dio Chi ha ucciso mio padre? Un lupo mannaro Un lupo mannaro? Come quelli dei figli Ah giusto Tu e l'argento non andate d'accordo vero? Guardate a turno I mostri che trovi nei libri sono reali E sono tra noi Lupi mannari, vampiri, zombie Sono dappertutto Marcus, tu sei uno zombie Magari è solo influenza Non dovrebbe mica spalarmi Prendi questo talismano Finché lo avrai addosso Non potranno toccarti Provatemi quella ragazza Portatela È lei la chiave È arrivata l'ora Di usare il cuore di Belial Belial è il più potente dei demoni Tutto ciò che gli serve per ritornare tra noi è un corpo che lo ospiti e il cuore E Belial vuole tornare Chiunque controlli Belial controlla il mondo Dylan! Allora qual è il piano? Non serve un piano Solo pistole più grandi Abbassati Cosa? Abbassati 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 Grazie.